Sì, la giornata nazionale 21 marzo con legge di Stato è diventata la giornata della memoria e dell'impegno civile ha il cuore quest'anno a Padova ma è ramificata in tutta Italia. In Campania d'Avellino io stamattina ho cominciato la giornata a Chiaiano nel fondo Amato Lamberti piantando dei limoni anche personalmente intestati a diverse vittime innocenti della criminalità. Memoria significa impegno, significa schieramento e questa città, il sindaco, la nostra amministrazione, la giunta e noi tutti siamo schierati in prima linea contro la violenza, contro la barbarie, contro le mafie e contro ogni forma di criminalità.